Tre punti per mettersi alle spalle tutte le polemiche. Il Foggia supera il Messina ultimo in classifica di misura 1-0. Il finale allo Zaccheria con Peterman che prima sbaglia un calcio di rigore e successivamente trova la redenzione firmando la rete decisiva. Mister Gallo conferma il 3-5-2 visto contro il Monterosi, Sciacca di Pasquale e Rizzo in difesa mentre in avanti spazio a Vutai in coppia con Peschetola. Autieri risponde con il 3-4-3. Buon inizio del Messina che sin dai primi minuti cerca di condurre il gioco e mantiene un buon possesso palla. Il primo squillo della sfida è per gli ospiti con la conclusione di Fofana deviata in angolo al sesto. I ritmi sono quasi balneari al diciannovesimo sempre per gli ospiti e Marino a provarci. Conclusione che non può impensierire dal masso. Il primo squillo del Foggia arriva al venticinquesimo punizione dalla tre quarti dei rossoneri a cui segue il tiro fuori bersaglio di Rizzo. E l'ultima azione degna di nota la prima frazione va in archivio 0-0 tra i fischi dello Zaccheria. Nella ripresa il Foggia va vicinissimo al vantaggio. Vutai scatta sulla sinistra, serve al centro Garattoni che col mancino spara alto. Al 53esimo l'episodio che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ferrini atterra Vutai in area. Calcio di rigore per il Foggia. Dal dischetto si presenta Peterman che si lascia ipnotizzare da Lewandowski. Al 72esimo però l'ex Cesena si fa perdonare sul calcio d'angolo di Costa. Ottimo l'inserimento di Peterman che insacca il pallone in rete di testa dopo la carambola sul palo. Il Messina prova a farsi sotto con Catania e Fofanà ma non basta. Finisce 1-0 allo Zaccheria. Finisce 1-0 allo